Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. La cantieristica sulla SP1 Aretina per San Donato, senso unico alternato e restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 17 nel comune di Figline incisa Valdarno. Il provvedimento è in vigore fino al 29 aprile. Siamo al traffico ferroviario in merito all'inconveniente alla linea tra Pistoia e Serravalle. Informiamo che la linea è stata riattivata. Al momento tre bus svolgono servizio spola da pescia, mentre due lo attivano da Pistoia. Nel meno oltre che il treno 18519 Pistoia-Firenze è cancellato sull'intera tratta. I viaggiatori utilizzano il treno 18681. Può aver sento Scana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.